Domattina devi farmi un sacrificio, vai in catera, due infermieri, dopo di che ti manderò a a a a a a a a Grazie a tutti. Madre, stamattina non abbocca niente? Sicuramente ha messo l'esca sbagliata. Provi l'amaro e di matta, è un'ottima esca. Provi l'amaro e di matta, piace anche il pesce spada. Adesso venite con me. Madre, non arriva a prendere la sacca rosa e il sacco di caffè? Tenga, usi la falce. Adesso andiamo a bere all'arena dell'acqua e vi faccio conoscere l'amministratore. Scusate, io rimango qua, ho visto già abbastanza. E non vorrei essere incaterata anch'io. No. 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 No.